buon pomeriggio a tutti da andrea ballocchi e benvenuti alla fiera virtuale di info web editore dei portali info build e info build energia oggi e fino al 20 marzo più di 40 aziende top del settore apriranno il loro stand virtuale per illustrare le novità 2020 in brevi webinar della durata massima di 15 minuti realizzati in conformità delle prescrizioni vigenti per la prevenzione della diffusione del coppia 19 in questo webinar enrico casali manager di robur parlerà di della distrattificazione automatica dinamica vi lascio la parola grazie buongiorno a tutti benvenuti a questo webinar ringrazio anche gli organizzatori per darci questa opportunità che cade giusto a fagioli in questi troppo frangenti non troppo positivi ma ci permette di essere magari un pochettino più vicine al computer quindi ascoltare con un po più di interesse enrico casali come mi ha già presentato prodotto manager di robur giusto per per cominciare una nota brevissima sul tema di robur robur è da 64 anni alla continua innovazione tecnologica penso che tanti di quelle che si sono iscritti oggi già la conoscono comunque è un'azienda che basa il suo il suo business e anche la sua voglia di crescere attraverso l'innovazione attraverso il service e la responsabilità sociale è un'azienda totalmente italiana bergamasca radicata da da sempre nel territorio bergamasco fondata nel 1956 signor benito guerra siamo oggi circa 100 dipendenti con una caratteristica particolare innoviamo costantemente questo vuol dire investire il 7 per cento tutti gli anni in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie robur è conosciuta all'inizio degli anni 80 con la produzione di generatori d'aracalda a scambio diretto pensili o se tanti si ricorderanno i generatori arancioni appesi per le capannoni e nel 1991 abbiamo aperto il mondo dell'assorbimento a gas acquistando dagli stati uniti un'azienda nel gruppo elettorux fa che faceva refrigeratori a gas e oggi l'abbiamo sviluppata nelle pompe di calore assorbimento a gas e siamo come potete vedere siamo presenti commercialmente in oltre 50 paesi rimane il quartiere generale qui in bergamo e a verdellino e il è una filiale che con la storica americana della robot corporation questo è diciamo per inquadrare un attimo chi è robur che vi presenta questa soluzione di oggi ecco a proposito di destratificazione automatica dinamica intanto faccio la domanda che cosa che cos'è questa destratificazione automatica dinamica perché possiamo definirlo un sistema intelligente stiamo parlando di smart factory si diciamo che ci stiamo avvicinando comunque al concetto di dare la possibilità di e di rendere più smart anche il riscaldamento nel suo complesso anche a livello industriale dove ovviamente la tecnologia non è ancora o quanto soprattutto in edifici esistenti non è ancora permeata da grande innovazione quindi giusto per dare una una panoramica di quello che potrebbe essere il concetto di destratificazione dinamica cominciamo a dire che si sta parlando di edifici industriali e tutti voi sapete che sono caratterizzati da altezze elevate se io penso a un edificio industriale e penso sul riscaldamento tutti noi ovviamente non possiamo trascurare il fatto che esiste una stratificazione dell'aria calda quando io faccio un riscaldamento necessariamente genero una stratificazione di calore lo vedete in alto a destra in questa slide dove vedete un esempio di rilevamento della temperatura in un capannone dove alto 8 metri in questo caso dove vedete che la stratificazione del calore è decisamente importante quindi utilizzare questo calore quello che si deposita nelle parti alte del capannone qualsiasi esso sia poter utilizzare in modo proficuo è sicuramente significato di risparmio quindi noi possiamo risparmiare sui corsi energetici dei capannoni magari vetusti magari non di ultima generazione che sono tanti in italia come sapete certamente sì e ci sono diverse strategie che possono essere utilizzate noi ne proponiamo una oggi che definiamo destratificazione automatica dinamica e quindi per rispondere un po' alla domanda del coordinatore io direi che possiamo vedere che cosa serve per ottenerla come funziona e poi vediamo infine in questi 15 minuti un caso concreto con i risultati che abbiamo ottenuto utilizzando appunto questa soluzione energetica innanzitutto cosa serve per ottenerla ovviamente questo è un capannone è un capannone industriale di altezze che possono essere variabili ma non è mai applicabile a qualsiasi tipo di edificio a qualsiasi altezza serve innanzitutto una serie di apparecchi dei destratificatori che rour chiama air tech che hanno la hanno la caratteristica di avere a bordo attraverso una scheda elettronica di una propria sonda dell'aria quindi il destratificatore oltre che a funzionare dalla parte alta del soffitto rileva anche la temperatura che in quel momento è presente a quella altezza serve osservano sonde di temperatura che noi chiamiamo pt 1000 che sono sonde che rilevano la temperatura nella zona occupata hanno il compito di leggere che temperatura c'è nella zona dove ci sono gli operatori nel capannone poi serve un dispositivo elettronico per la gestione dei destratificatori delle sonde e dell'eventuale ventilanti quindi un dispositivo elettronico intelligente che ha la capacità di leggere quello che sta succedendo in ambiente in termini di temperatura e reagire in modo opportuno che adesso fra un attimo vedremo infine sarebbe opportuno poter avere anche la possibilità di gestire gli aerotermi cioè quegli elementi che distribuiscono il calore all'interno dell'edificio nel capannone industriale abbastanza consono trovare aerotermi ad acqua che emettono calore ecco se si fosse fosse possibile utilizzarli connessi al sistema di gestione centralizzata riusciremo ad avere un quadro più completo e una gestione più organica intelligente in questo caso della non solo della destratificazione ma proprio dell'emissione del calore nell'ambiente come funziona questo sistema abbiamo visto gli elementi che lo compongono vediamo con quale logica funziona l'elettronica è la padrone in questo caso l'intelligenza sta dentro il controllore airbox che noi chiamiamo airbox che è un sistema intelligente in grado di leggere in continuo innanzitutto le temperature che arrivano attraverso una comunicazione modbus da soffitto grazie alla sonda del destratificatore e nell'ambiente della zona occupata grazie alle sonde che abbiamo installato in questo modo lui riesce a capire in ogni istante cosa sta succedendo al livello dell'occupazione delle persone che occupano il capannone e cosa sta succedendo al soffitto tra le varie funzioni che ha questo comando a questo punto io posso fare in modo di generare un differenziale di tempo impostare un generale e un differenziale di temperatura che in pratica è la differenza che c'è di temperatura fra il soffitto e la zona occupata questo differenziale di temperatura lo posso impostare lo vedete nella slide di sinistra a sinistra di questa slide in questo caso abbiamo per esempio impostato un differenziale di temperatura pari a 5 gradi il che vuol dire che il destratificatore si avvierà solo quando al soffitto è presente una temperatura dell'aria sufficientemente alta rispetto a quella del pavimento in questo caso 5 gradi e quindi solamente quando sul soffitto c'è più caldo rispetto alla zona occupata il destratificatore si avvierà e come il destratificatore si avvia su tre diverse velocità selezionabili attraverso sempre il comando ma perché definiamo questa destratificazione che può fare qualsiasi per certi versi destratificazione dei certificatori che trovate in commercio è dinamica perché l'elettronica fa sì che innanzitutto il destratificatore si avvii solo quando il differenziale di temperatura fra l'ambiente e il soffitto supera 5 gradi quindi con il differenziale superiore a 5 gradi è quello che noi imposteremo solamente quando aumenta questo differenziale quindi quando sul soffitto si genera del calore il destratificatore partirà nell'esempio che vedete io imposto un set point ad esempio 20 gradi nella zona occupata nella zona occupata in questo momento ci sono 19 gradi e mezzo quindi è inferiore la temperatura di comfort ma dove c'è il destratificatore c'è 25 gradi quindi il differenziale maggiore di 5 questo fa sì che il comando airbox avvii il destratificatore è dinamica perché nel momento in cui io dovessi per qualsiasi motivo cambiare il set point da 20 gradi per esempio lo voglio portare a 18 anche l'avvio del destratificatore seguirà questo spostamento e il destratificatore anziché partire a 25 gradi partirà a 18 più 5 quindi a 25 gradi questo quindi senza bisogno di dover intervenire sul termostato del destratificatore che ovviamente in una posizione poco consone poco utile e poco diciamo facilmente accessibile non solo ma l'elettronica va in modo di avviare quando possibile sempre quando è possibile il destratificatore prima degli aerotermi se questi sono connessi all'airbox quindi il nostro comando prima predilige l'utilizzo del calore posizionato nella parte alta del soffitto e solamente quando questo non riuscirà a far partire a raggiungere il step point avvierà anche i sistemi di riscaldamento che sono presenti nell'ambiente in questo caso le nostre ventilanti quindi le ventilanti vengono accese solo quando non si riuscirà da soli non usciranno da soli dei certificatori a portare a regime l'edificio l'esempio che vedete qua la temperatura è scesa da 19 gradi come avete visto 18 gradi e mezzo il set point è 20 quindi in questo caso vengono attivati anche gli aerotermi che quindi avranno saranno alimentati dalla caldaia centralizzata o dalla caldaia autonoma e erogheranno calore per fornire calore per raggiungere appunto il set point impostato le ventilanti le ventilanti in questo caso chiamiamo gli aerotermi non li chiamiamo aerotermi roburtech hanno di serie tre velocità di ventilazione e queste velocità di ventilazione sono selezionate in automatico è l'airbox che decide a che velocità far funzionare l'aerotermo in che modo leggendo la differenza di temperatura che c'è fra il set point per esempio 20 gradi e la temperatura di in quel momento nel locale quindi faccio un esempio se il locale ci sono 17 gradi il nostro comando avvierà alla massima velocità ovviamente gli aerotermi perché ci bisogna riportare in temperatura locale mano a mano che la temperatura da 17 si avvicinerà a 20 gradi l'aerotermo modulirà in automatico grazie all'intervento del comando remoto riducendo la velocità e quindi anche il rapporto di calore fino a spingersi oppure seguendo la scelta che può essere fatta sul comando remoto può essere lasciato la minima velocità quindi un funzionamento continuo dell'aerotermo per per esempio lasciare un minimo di ricircolo dell'aria se le esigenze lavorative lo richiedono questo quindi è un po il concetto l'obiettivo è quello di far sì che la ventilazione dei destratificatori e la sua portata d'aria e la ventilazione delle ventilanti con la sua portata d'aria siano connessi insieme partono esattamente quando e solamente quando è necessario generare del calore perché in ambiente tutto quello disponibile parlo in particolare di quello del soffitto è stato utilizzato e non è sufficiente per portare a regime l'impianto quindi un sistema di gestione completa della ventilazione in un capannone industriale ma giusto perché per darvi un'idea di quello che può avvenire all'interno di un capannone abbiamo fatto un esercizio che è questo un'azienda di varese che ha due sedi di cui è tre in italia che ha specializzata nella produzione dell'ingranaggio ha iniziato installare sette destratificatori nella sua sede di varese successivamente trovandosi bene ne ha installati altri cinque nella sede di padova in questo contesto abbiamo voluto andare a vedere anche noi che cosa succedeva e abbiamo fatto alcuni semplici rilievi che però ci danno un po il valore di questo di questa soluzione questo edificio che è stato analizzato un edificio mediamente isolato con un'altezza che vedete di circa sette metri i destratificatori sono installati come diciamo noi stessi suggeriamo a circa un metro dal soffitto in modo che i ventilatori che sono nella parte alta del destratificatore possano prendere e prelevare l'aria calda e rispingere verso il basso il comando rebox è stato messo nel quadro elettrico come vedete qua il comando in questo caso il cliente non ha voluto la gestione diciamo anche dei propri sistemi di riscaldamento quindi non hanno non abbiamo toccato nulla dell'impianto di riscaldamento esistente semplicemente abbiamo per questo per questo periodo di analisi abbiamo alzato la temperatura di funzionamento in modo che funzionasse sempre l'impianto di riscaldamento e gestiamo solo i destratificatori nel nel quadretto in basso come vedete hanno anche appiccicato quegli adesivi dove non avete i numeri ma sono 1 2 3 4 e 5 che sono la posizione dei destratificatori all'interno di questo capannone sul display del dell'airbox nel nostro comando è possibile vedere tutti i valori rilevati dalle sonde quindi nella parte alta vedete la temperatura soffitto letta dalla sonda del destratificatore quindi vicino al soffitto la temperatura della zona occupata della sonda remota collegata al destratificatore e anche il numero del destratificatore che sta leggendo queste temperature quindi vedete se riuscite a intuire c'è scritto 5 vuol dire che questo vicino all'icona della ventola e che vuol dire che il questo il destratificatore numero 5 sta leggendo queste temperature condizioni delle di rilievo che abbiamo con cui abbiamo analizzato questo impianto l'avvio di riscaldamento verso le 7 del mattino l'avvio del destratificatore verso le 13 e 30 il primo rilievo diciamo qualche minuto prima delle dell'avvio dei ventilatori alle 13 e 30 e il secondo rilievo dopo circa tre ore di funzionamento ora qui faccio vedere quello che abbiamo rilevato sul destratificatore numero 1 prima alle 13 e 30 e poi alle 16 e 30 e vedete che la temperatura al soffitto era di 27 gradi e mezzo e rimasta invariata più o meno ma la temperatura al suolo diciamo al nella zona occupata è passata da 16 gradi e mezzo a 19 lo stesso eh faccio vedere solo il destratificatore numero 5 eh allo stesso lo stesso modo 26 gradi al soffitto mentre la temperatura nella zona occupata è passata da 15 gradi e mezzo a 18 gradi e mezzo ora senza farvi vedere tutte queste schermate riassumo in questo modo eh i dati rilevati qualcuno si potrebbe un po' meravigliare del fatto che le temperature dal soffitto sono rimaste praticamente invariate se fate caso bene o male fra il rilievo delle 13 e 30 e le 16 e 30 ha cambiato poco ma questo dovuto al fatto che come vi dicevo all'inizio abbiamo dovuto per vedere l'effetto che faceva eh questo sistema di destratificazione imposto un funzionamento costante del riscaldamento che nel caso di assenza di destratificatori sarebbe rimasto comunque acceso perché se guardate sulla colonna di sinistra l'area occupata le temperature non superano mai 17 gradi mentre nella zona invece una volta avviati i destratificatori siamo arrivati fino a 19 gradi che vuol dire che in quelle condizioni probabilmente il nostro sistema avrebbe spento le ventilanti e quindi non generato più del calore che sarebbe continuato a stratificare nel soffitto ma si sarebbero spento le ventilanti e il calore nella zona del soffitto sarebbe stato spinto verso il basso dei destratificatori e quindi probabilmente avremmo avuto una eh riduzione della temperatura a soffitto comunque in ogni caso questi sono i valori rilevati ehm di differenziali di temperatura nella zona occupata fra un sistema senza destratificatore e con il destratificatore air tech mediamente come vedete vedete due e mezzo tre e mezzo uno e mezzo tre diciamo la media è di circa due gradi e mezzo considerando quindi che la temperatura esterna si 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 considerando la temperatura esterna di circa sei gradi un aumento della temperatura della zona occupata di circa due gradi e mezzo possiamo dire che la riduzione dei consumi è stata indicativamente del 20 per cento e non dobbiamo trascurare il fatto di avere anche dato un maggior confronto alle persone presenti all'interno del capannone air tech quindi questo è il nostro destratificatore destratificatore che ha la caratteristica di avere un ventilatore a tre velocità con un telaio particolarmente leggero che è in EPP in polipropilene espanso e una griglia a quattro quadranti per orientare meglio l'aria all'interno dell'edificio e airbox che è un piccolo programmatore evoluto intelligente che può fare la programmazione oraria regolazione dei set point la gestione del differenziale come abbiamo visto in temperatura una regolazione della velocità della ventilazione fa diagnostica e fa tante tante altre cose in un schermo touchscreen a colori quindi noi possiamo con intelligenza utilizzare il calore che c'è in tutto l'edificio a questo punto fino al soffitto gestendo fino a 31 unità di ventilazione che siano destratificatori o siano aereotermi purché siano della di robur e gestiti in modo appunto intelligente e utilizzando al meglio il calore che si forma nei capannoni industriali come vi ripeto fino a 31 unità gestite su un unico comando trovate a disposizione trovate sui nostri sul nostro sito robur.it tutti gli strumenti a disposizione dei installatori progettisti ma anche utenti quali cataloghi commerciali manuale di istruzione un fascicolo tecnico e anche un programma di dimensionamento banalissimo che aiuta aiuterà chi deve dimensionare in modo opportuno il desertificatore all'aiuto della scelta del modello più opportuno in base alla superficie e all'altezza dell'edificio. perfetto spero di essere stato nei tempi e niente io lascio detto che comunque sulla mia email potete eventualmente mandarmi qualsiasi richiesta di approfondimento di curiosità a proposito di questo sistema di destratificazione. perfetto grazie ancora signora Casari grazie a voi buona giornata e buon pomeriggio grazie a tutti voi e in bocca al lupo per quanto sta succedendo in questi giorni ma come diciamo spesso è giusto ripetere comunque ce la faremo non molliamo mai grazie a tutti grazie grazie a tutti